La storia non si vive nel puro nozionismo, ma toccandola in prima persona, in a new and eye-touch experience. Ricercare, sperimentare, indagare, verificare e rivalorizzare. La ricerca continua con EFAS. Come sempre, EFAS mi ha regalato delle forti emozioni, orgoglioso di farne parte. EFAS. 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 I cadetti delle famiglie nobili vogliono entrare in questo corpo, vogliono diventare questo ordine, vogliono diventare cavalieri templari. ma l'ordine ha il voto della povertà. Pertanto, chi entra, anche se è ricco, deve depositare nelle casse dell'ordine le proprie ricchezze. Quindi, in pochissimo tempo, le loro ricchezze diventano importanti. Per di più, Gianni Terzo dà a loro la possibilità di riscuotere alcune tasse. E quindi le loro casse diventano sempre più, come dire, ricche e importanti. Cosa accade? Considerate che la loro ricchezza gli permetterà addirittura di finanziare delle crociate. E' proprio questa ricchezza che a un certo punto creerà dei problemi. Perché arriviamo chiaramente a quasi due secoli dopo, quindi chiaramente abbiamo tantissime vicissitudini, la loro crescita in numero, in specializzazione, in potere, tutto quello che possiamo immaginare, ma a un certo punto siamo appunto nel 1300, richiede loro un prestito Filippo il Bello di Francia. Ma questo prestito non può essere restituito. Filippo il Bello non ha la possibilità di restituirlo. Per cui invece di fare, diciamo, che ne so, chiedere una dilazione, come dire, di questo prestito che, innanzitutto comincia a parlare con il Papa dicendo che questi Templari non si comportano molto bene e che celebrano delle funzioni eretiche. Quindi, di fatto, sono al di fuori di quelle che sono le celebrazioni della Chiesa. Questo, chiaramente, all'inizio il Papa cerca, in qualche modo, di non credere a queste voci, ma sono voci che si diffondono molto velocemente. E addirittura, ad un certo momento, accade qualcosa di molto negativo. Sappiamo che noi ci ricordiamo, quando è venerdì 13, siamo tutti un po', come dire, impauriti perché pensiamo che accada qualcosa di molto negativo. E tutto questo è frutto di quello che accade il 13 ottobre 1307. Contemporaneamente in tutta Europa vengono catturati, oltretutto uccisi, un numero altissimo di Templari. E questo, chiaramente, farà sì che il Papa, Clemente V, si convinca anche ad aprire un processo, nei loro confronti, con capo di imputazione e eresia. Un, chiaramente, comportamenti eretici. Cosa accade? Questo processo durerà cinque anni, quindi si concluderà nel 1312, con una bolla un po' particolare, perché di fatto il capo di imputazione è eresia. Ma di fatto i Templari non verranno mai condannati per eresia, ma verranno semplicemente scomunicati, quindi di fatto non hanno una condanna per il capo di imputazione principale, iniziale, ma vengono scomunicati, quindi di fatto posti fuori dalla Chiesa. Ora, da quel momento, i Templari che non erano stati catturati, e comunque che non erano stati individuati, non possono più celebrare alla luce del sole. E questo li obbliga a nascondersi. E qui a Viterbo, uno dei luoghi dove iniziano a celebrare, è proprio la cappella che abbiamo appena visitato, quella che abbiamo trovato a meno 15 metri. Ma perché i Templari e perché a Viterbo? Perché Viterbo è città papale. Dal 1256 al 1256 i papi si succederanno e vivranno proprio qui a Viterbo. sotto, diciamo, il Palazzo dei Papi esisteva una commanderia templare e chiaramente i Templari della zona sono costretti, dopo questa bolla del 1312, a nascondersi e cominciano appunto a celebrare in questi luoghi sperduti o nascosti. Ora, chiaramente, faremo poi un giro per i vari punti del museo nei quali vedremo innanzitutto quelle che erano le loro uniformi. Quella originale e quella marrone, perché di fatto erano dei monaci. Mentre invece nel momento in cui cominciano a combattere sul terreno, e chiaramente per le crociate, si strutturano un uniforme che sia molto più riconoscibile a distanza. Cioè bianca con una croce rossa che permetta di essere riconosciuti a distanza. Perché? Perché da una delle vetrine vedremo che sono contenuti degli oggetti che da un punto di vista di armamenti non ci fanno riconoscere come popolazione europea, perché vediamo che hanno delle caratteristiche simili a, come dire, armi che sono più in uso nei paesi arabi. E questo perché? Perché alcuni templari verranno arruolati proprio dal terreno. E quindi cosa rischiavano di fare quando erano a combattere? Di uccidersi tra loro, perché chiaramente non si riconoscevano. L'abito bianco con questa croce rossa in qualche modo li fa riconoscere, sia quando si avvicinano ma anche a distanza. Perché alcune armi chiaramente erano rappresentate dalle frecce. Vedremo appunto nelle varie vetrine che ci sono diversi tipi di armi, non le chiamiamo armamenti. Ora la cartina ci dimostra qual era la dislocazione delle commanderie templari in Europa ma anche in Medio Oriente. Vediamo appunto, è individuata anche la commanderia Tusci, cioè quella di Viterbo, e nella zona del Medio Oriente vediamo la maggiore concentrazione di commanderie. Perché? Perché lì si combatteva, lì si facevano le crociate. Quindi era necessario avere tanti punti, tante, se le vogliamo chiamare virgolettate, caserne, tanti punti dai quali poter attingere personale, quindi guerrieri che potessero andare sul terreno. Nella parte centrale abbiamo alcuni plastici che ricostruiscono alcune delle commanderie a latitudini diverse. Abbiamo una che rappresenta una commanderia giordana, una che rappresenta una commanderia di Parigi, vediamo questi, come dire, questi tetti affusolati che ci ricordano un po' appunto il periodo gotico, no? Tutti questi appuntiti, una commanderia che invece ci ricorda siriana e una delle commanderie ci ricorda proprio la loro autonomia, il loro poter svolgere erano veramente autonome, potevano fare di tutto, c'era di tutto all'interno della commanderia. Ci si viveva e erano attrezzate per combattere. E in modo particolare, quello che mi piace sottolineare, è una delle vetrine dove all'interno ci sono tutta una serie di strumenti chirurgici che ci raccontano un po' quella che è appunto la storia che avveniva all'interno delle commanderie. Perché? Perché ogni commanderia aveva la sua infermeria, perché chiaramente quando i Templari tornavano dal campo di battaglia non sempre tornavano, come dire, in piena salute. Avevano tutta una serie di ferite, all'interno delle commanderie andavano curati. E le commanderie Templari, con le loro infermerie, hanno fatto anche un po' la storia della medicina e della chirurgia, soprattutto della chirurgia di guerra. Perché? Perché erano ferite particolari e quindi richiedevano interventi molto particolari. Qual è la preziosità dell'azione, per esempio, che si è svolta nelle infermerie? Il fatto che i Templari scrivessero, erano dei modaci, quindi c'erano anche delle persone che erano addette a scrivere quelle che erano le loro esperienze sul terreno e soprattutto quello che imparavano. Ora, è chiaro che nella tradizione, soprattutto romanzesca, che riguarda i Templari, si parla di questo tesoro dei Templari. Tutt'ora lo cerchiamo, no? Siamo in giro a cercare questo tesoro. In realtà il tesoro dei Templari è la conoscenza nascosta nelle nostre biblioteche più o meno antiche, nelle quali possiamo trovare tutta una serie di scritti che in qualche modo hanno dato le basi a tutto quello che poi è avvenuto dopo. È chiaramente andato ad attingere in queste biblioteche, in questi libri che loro hanno elaborato, possiamo trovare una ricchezza che, se loro non ci fossero state, sicuramente non ci avrebbe portato ai nostri giorni. Considerato che queste commanderie si sono sviluppate anche molto in Medio Oriente, troviamo anche tutta una serie di libri, di testi che vengono da mondi più lontani, quindi da mondi che arrivano dal Lontano Oriente e anche dal Medio Oriente, che chiaramente ci raccontano e permettono quello che è la base dello sviluppo di tutte le società, quella che io definisco contaminazione culturale e che ci porta chiaramente ad arrivare a un miglioramento e a un'evoluzione della nostra storia e cultura. Grazie a tutti. 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 Siamo sempre a vostra disposizione per qualunque domanda. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.